I tifosi sono sempre pronti a sostenervi dall'inizio del campionato, domani comincia l'Europa League e saranno moltissimi anche domani allo Stato e Franchi, le chiedo da giocatore sul rappresentativo, uno dei più importanti di questa squadra, se ha un appello da fare alla tifoseria e poi se si sente di fare una promessa prima che cominci questa competizione. I tifosi sarebbero con noi, anche alla prima del campionato abbiamo visto lo stadio pienissimo e questo per Parix sicuramente non sarà diverso, spero tanta voglia da loro come quella che c'è in questa squadra, anche forse se non abbiamo dei nomi abbiamo una squadra con, non posso dirlo, ma con due belle azioni per trattare fino al fondo. Sì, 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 sì.